i politici si voterà giovedì. Grazie. Passando al prossimo punto dell'ordine del giorno, che è un'interrogazione orale sull'utilizzo della cannabis per scopi medici, è un'interrogazione della Commissione, vi annuncio che non ci sarà catch day in questo dibattito, perché stiamo superando di molti tempi. Capisco che molti colleghi saranno delusi, ma sono stata informata che andremo oltre la mezzanotte e il ritardo non si è accumulato con me al tavolo della Presidenza e mi dispiace di questa ristrettezza nei tempi. Do subito la parola all'autrice, Suizza, per 5 minuti. Grazie, grazie signor Presidente. Devo dire che in questi ultimi anni l'attività del Parlamento si è concentrata sulla salute, sull'accesso ai farmaci e ai servizi sanitari, eccetera. E c'è stata una traduzione orale riguardo all'uso della cannabis a scopo terapeutico. Vorrei che ci si basasse sull'uso di dati scientifici a dimostrazione dell'utilizzo della cannabis solo, ripeto, a scopo terapeutico. Quindi penso che ci sono testi che possono essere interpretati. Cioè da un lato c'è questo uso, ripeto, a fine terapeutico, a scopo terapeutico e poi ci possono essere abusi. Ebbene quindi che il tasso di concentrazione di tetraidrocannabinolo venga limitato e che ogni paese membro debba poter regiferare circa i farmaci a base di cannabis. Devono evitare che questi usi siano impropri. Questo potrebbe portare a problemi per i pazienti. Quindi vorremmo dei chiarimenti da parte della Commissione. Che ne pensa dell'utilizzo di queste sostanze? Su quali ricerche si basano? E quali sono le ricerche che esistono attualmente in Europa? La Commissione. L'Unione Europea finanzia effettivamente la ricerca sull'uso della cannabis a scopo terapeutico. Poi la Commissione. Intende creare delle norme per l'uso della cannabis anche per uso non farmaceutico? La Commissione deve lavorare con le autorità nazionali per arrivare a una definizione molto precisa del cannabis a scopo terapeutico, nonché una definizione dei valori nei farmaci a base di cannabis. bisogna aprire un distinguo fra i farmaci a base di cannabis che non sono stati oggetto di omologazione e quanti che invece sì e vengono utilizzati. Questi farmaci sono utilizzati su molte sostanze, quindi a base di molecole, di cannabinoidi, che sono molto vari. E qui bisogna aprire un distinguo fra le varie sostanze. Ci sono molti farmaci, infatti, che devono essere basati su dosaggi ben precisi. Bisogna sapere chi si occuperà della produzione, chi controllerà questi vari elementi. L'accesso a questi farmaci, poi chiedo, sarà possibile anche per i minori? I pazienti, cosa ne è dei pazienti che hanno esigenze particolari, per esempio le donne incinte? Nelle letture scientifiche c'è qualcosa riguardo all'utilizzo della cannabis? Ci sono delle terapie che richiedono l'impiego di questa sostanza, vedasi per esempio tumori, asma, patologie croniche, eccetera. Patologie spasmodiche che comportano dei spasmi, insomma. E pazienti che hanno depressione o ansia cronica o PDS. Quindi dobbiamo concludere dicendo che l'agenzia delle istituzioni di ricerca devono portare a delle definizioni. Quindi soltanto per pazienti che hanno veramente bisogno di queste sostanze. Ci sono delle persone che non devono pubblicizzare, caldeggiare l'uso della cannabis. Che deve essere assolutamente inquadrato per scopo esclusivamente terapeutico. Evitare ogni abuso. Grazie. Grazie. Signora Snova, grazie onorevoli. Negli ultimi decenni abbiamo visto che è andato aumentando l'interesse pubblico circa le componenti della cannabis e l'uso della cannabis per fine terapeutico. Appunto lo scopo terapeutico della cannabis è stato trattato per la sclerosi a placche, stress post-traumatico, ansia e quant'altro. C'è un chiaro distingo da fare per usi medici non farmaceutici e farmaci derivati dalla cannabis. Per quanto riguarda poi il punto di vista normativo è limitato il capo d'azione dell'Unione Europea perché è una competenza nazionale e quindi ciascuna autorità nazionale può decidere cosa è legale sul suo territorio. D'altro canto il quadro farmaceutico unionario è ampio e include anche i farmaci derivati dalla canapa indiana. Un'autorizzazione di commercializzazione, quindi di emissione sul mercato, è possibile soltanto una volta garantita la qualità, efficacia e sicurezza, tenendo conto dell'impatto, valutazione di impatto. Una volta commercializzato il prodotto farmaceutico continua ad essere oggetto di attività di farmacovigilanza, quindi di controllo che riguardano anche i prodotti farmaceutici derivati dalla canapa indiana. Quindi esattamente l'Unione Europea come può contribuire a questa discussione? Con un dialogo tempestivo, con consigli o consulenza scientifica? Ecco, questi sono esempi di valore aggiunto dell'Unione Europea, nonché una buona collaborazione che è veramente essenziale fra le varie agenzie. E ora vorrei rispondere alle vostre varie domande. Come punto di partenza tengo a sutilizzare il fatto che ci vuole più ricerca. E questo sarà possibile grazie ai prossimi obiettivi Horizon 2020 per le proposte per i prossimi due anni. E anche i programmi quadro per ricerca e innovazione, l'Unione Europea, vi ricordo, ha finanziato molti programmi e borse. Più di 40 milioni di euro sono stati dedicati proprio alla ricerca su composti basati a binoidi e cannabis. Vogliamo quindi favorire la ricerca in Europa e continueremo con questo approccio. Nel nuovo programma quadro Horizon Europe, la Commissione continuerà a favorire le ricerche, anche in settori innovativi, quali nuovi approcci terapeutici. Riguardo alla seconda serie di domande che mi avete rivolto, devo dire che sono questioni queste molto complesse e le decisioni vengono prese dai Paesi membri. Il quadro normativo europeo farmaceutico riguarda l'autorizzazione dei farmaci derivati dalla canapa indiana, dove si rende conto, una volta approvata, l'efficacia, la sicurezza e la noquità. Il resto è tutto di competenza nazionale. Ma questo non significa che l'Unione Europea non contribuisce alla discussione. Nell'ottobre scorso vi è stato l'Istituto sulle dipendenze e ha fornito delle linee guida sui modelli. Nel dicembre scorso l'Agenzia ha pubblicato una relazione sull'uso medico della canapa indiana e dei cannabinoidi. In risposta al crescente interesse in questo. Colgo l'occasione per sottolineare il fatto che non è competenza comunitaria l'uso non farmaceutico della cannabis. Anche se sappiamo quel che si dice al gruppo di esperti OMS circa le preparazioni farmaceutiche di sostanze psicoattive. Ove applicabili, dette implicazioni verranno prese in considerazione nell'ambito della normativa farmaceutica basata sui prodotti. Grazie. Grazie, Commissione. Ora do la sottolinea a Mr. Elisa. Grazie, una va Elisa per un minuto e mezzo. Grazie, l'uso medico della cannabis è una buona cosa. I prodotti infatti possono aiutare i pazienti laddove i farmaci non possono o non abbastanza. Vorrei ricordare che ci sono due estremi dal quale diffidare. Il primo è quello del cane di Pavlov, cioè si sente la parola cannabis e si reagisce. Ah, è pericoloso, è pericoloso, è una droga illegale, dobbiamo essere contrari. Questo è il riflesso pavloviano che non è appropriato. L'altro estremo a cui dobbiamo fare attenzione è che i pazienti non facciano, come ho sentito una volta un paziente dirmi, guardi, io ho mal di schiena, va via solo se mi fumo uno spinello. Quindi magari i medici potrebbero dare altre soluzioni. Il tutto va visto in un ambito ben regolamentato, bisogna procedere con cautela e vorrei ricordare il punto 14 della risoluzione, dove si dice che così come vale per altri farmaci, valgono le regole in fatto di ammissione sul mercato. La risoluzione trova appunto il contesto, l'ambito giusto, quindi spero che verrà appoggiato domani e votato alla vostra maggioranza. Grazie per due minuti. Grazie, Madame la Presidente. Grazie, Presidente. Commissaria, ho avuto un giorno dei dolori muscolari e in Francia sono andata a vedere un neurologo. L'unica cosa che mi ha detto, beh, fumi della shish, il problema è che fumare fa male alla salute e poi la shish è proibito nel mio paese. Non pensa che in tutta Europa si possa utilizzare la CBD, la molecola CBD, la cannabis, non è possibile, abbiamo bisogno di un quadro europeo. Da questo punto di vista è importante che la Commissione possa dare delle indicazioni chiare agli Stati membri. In secondo luogo, la risoluzione presentata è chiara sul fatto che sono i medici che dovranno fare la ricetta. Non si tratta di dire che chiunque possa utilizzare della cannabis è l'unico giudice, è il medico che possa dire che la cannabis può essere utilizzata nel quadro della risoluzione di certi dolori per i pazienti. Però ci sono certi emendamenti che sono stati presentati soprattutto dai conservatori per cui dicono che c'è solo la formula medica che è possibile. Non è vero, le modalità di prescrizione dolci, per esempio tisane, pomate, possono essere anche più efficace e molto più mirate rispetto per certi pazienti che sopportano male il medicinale. Quindi certo occorrono dei medicinali che devono essere controllati, però bisogna anche dar fiducia al medico perché possa prescrivere altri modi e in questo senso noi abbiamo presentato un emendamento. Quindi per modalità più appropriate per certe personalità, per certe patologie. Non chiudiamo il dibattito, qua parliamo solo di cannabis mecidinale, CBD e non il cannabis ricreativo, lo specifico. Quindi bisogna essere aperti perché non vorrei che ci fossero in questa questione ci fossero solo le grandi lobby farmaceutiche che ne beneficiano. Sostengo la ricerca di nuove medicinali di origine naturale, ma soprattutto la profilattica che dovrebbe essere fondamentale nella sanità. Parlo di ambito più vasto, non soltanto l'eliminazione di fattori di rischio. Nella risoluzione i dati ufficiali di ricerca e finanziamento della marijuana medica sono limitati. Nell'ambito per esempio della chemioterapia bisognerebbe prima fare delle ricerche cliniche accurate con il contenuto THC e CBD. Ma va fatto con la massima responsabilità. Bisogna fare una verifica in condizioni cliniche. La ricerca è soltanto prevista in momenti particolari quando gli effetti positivi saranno maggiori rispetto a quelli negativi legati ai narcotici. Attivarsi senza una ricerca preventiva adeguata non è una buona cosa, soprattutto perché vi sono anche fenomeni di adattamento a dosi sempre maggiori di narcotici. Grazie. Io sono a favore della maggior parte di questa risorsa. Dobbiamo creare l'architettura legislativa per sostenere la legalizzazione in tutta l'Europa. Dobbiamo finire con la situazione per cui alcuni che conoscono hanno cercato di utilizzare la cannabis per la loro figlia, però devono andare in Olanda. Per sei volte ci sono andati, invece dovrebbero avere la possibilità di averla a casa loro. Ora, libertà di circolazione e dei prodotti, anche bene, deve essere così. Anche in questo caso, poi centinaia di migliaia di persone sanno che ora può far bene la cannabis. Ebbene, grazie a questo danno questa sostanza alla loro figlia che non ha più l'epilessia. Quindi questa risoluzione potrà aiutare tutte queste persone. Commissaria Iurova. Presidente, onorevoli, grazie per questo dibattito interessante. Previsivamente concludo. Vi rassicuro, noi continueremo a sostenere le attività per migliore comprensione e per avere appunto la migliore conoscenza di quello che si deve fare a questo posto. Bene. La votazione ci sarà domani. Questa è un'interrogazione dell'Envi. Veniamo ora ad un'altra, l'ultima interrogazione. Si tratta di un'interrogazione sull'uso della, scusate, si tratta appunto della modifica del genoma germinale.